Android P arriva oggi alla sua seconda beta, si è da poco concluso il Google I.O. dove l'azienda si è concentrata principalmente sul Google Assistant e sul Machine Learning legato ad essa. Le novità in questa beta non sono tantissime, ma sono principalmente legate su un restyling grafico dell'interfaccia che ormai non si può più chiamare Google Stock, ma chiamerei interfaccia Pixel. Se volete scoprirla insieme a me, seguitemi in questo breve video. Ecco qua il nostro Pixel 2 XL, voltiamolo, sblocchiamolo e andiamo subito a vedere quali sono le principali novità ragazzi di questa preview, di questa beta 2 di Android P. Quella che salta subito all'occhio è la Navigation Bar, che non c'è più come noi la conosciamo, ma è presente questo simbolino qui. Simbolino che, se tappiamo, genera i quattro pallini tipici del Google Assistant. Vediamo subito il funzionamento. Tramite uno swipe in alto si accede al multitasking che può essere utilizzato sia in questo modo che tenendo premuto a destra o a sinistra, portando a destra o a sinistra questo cursore. Quando lo rilasciamo, lui entra nel menu che abbiamo aperto. Qua vedete che è comparso la freccetta per tornare indietro. Quindi, come vedete, la freccetta per tornare indietro compare solo nei menu che serve. Non c'è dovunque. Qui nella home non serve, non c'è. Nell'applicazione in cui serve, c'è. Quindi, questa qui, la freccetta, a volte appare, a volte no. Non c'è più il tasto, ovviamente, del multitasking, perché il multitasking adesso lo accediamo da qui. Da questa schermata, facendo un ulteriore swipe in su, si accede all'AppDrawer. AppDrawer che adesso si può accedere solo in questa modalità qui. Non vi so dire se questa modalità di utilizzo sarà comoda o no. Lo scopriremo solo col tempo. La cosa sicura è che questa qui è una differenza abbastanza importante, perché bisognerà rivedere il modo di utilizzare la bar di navigazione, ovviamente. Facendo uno swipe singolo, si accede all'ultima applicazione aperta. Come vedete, girano sempre le stesse due applicazioni. Un tap e torniamo alla home. Mettiamo adesso subito da parte la navigation bar e andiamo a vedere i toggle. Toggle che sono stati ridisegnati, come vedete, adesso hanno queste icone rettangolari, squadrate, con gli angoli smussati. Tutta l'interfaccia adesso è bianca e blu. I toggle rapidi non hanno più i menu a tendina, ma possono essere solo pigiati per essere attivati o disabilitati, tenuti premuti per accedere al menu. Menu che è delle impostazioni che troviamo qui. E anche questo, come vedete, è fortemente diverso da come era prima. Subito in alto, qua c'è scritto cercare le impostazioni. Si può andare a ricercare sostanzialmente qualunque cosa all'interno delle impostazioni. Per quanto riguarda le funzioni, quelle che troviamo nuove e interessanti sono sicuramente la funzione di batteria adattiva. Sostanzialmente tramite il machine learning, tramite l'intelligenza artificiale, Google riuscirà a dire questa applicazione la usiamo una volta al mese, questa applicazione la usiamo una volta al giorno, quella che usiamo una volta al mese andrà a limitare i suoi consumi in background. Questa, secondo me, può essere una funzionalità interessante. Google dice che può arrivare a ridurre fino al 30% del consumo in stand-by, che non è poco, considerando che una, tra virgolette, delle pecche di Android può essere il consumo in stand-by su molti dispositivi. Per quanto riguarda il display, abbiamo la luminosità adattiva, che sostanzialmente impara le nostre abitudini. Quando le andiamo ad attivare, adesso l'avevo disattivata perché altrimenti mi va a modificare il livello del display, della luminosità del display in camera, non va bene. Ma sostanzialmente, se noi, quando andiamo a regolare la luminosità di giorno sotto al sole, è in alta. Quando però è completamente buio, noi vogliamo comunque una luminosità più alta, e quindi la andremo a settare manualmente, questa funzionalità impedirà che, dopo la seconda, la terza, la quarta volta che noi andiamo manualmente ad abbassare, dovremo andare noi, ma lo farà lui direttamente per noi. Non c'è più, rispetto alla prima beta, la possibilità di cambiare tema, quindi questo qua, questi colori, questo tema, penso che sarà quello definitivo. C'è ancora la possibilità, tramite le opzioni di sviluppatore, di andare ad attivare il notch, anche se, anche qui, è fortemente diverso della prima volta. Adesso abbiamo la possibilità di attivare un notch in un angolo, abbiamo la possibilità, ecco qua, subito qua, dobbiamo farla difficile. Abbiamo la possibilità di andare ad attivare un notch doppio, sopra e sotto. Come vedete qui, forse c'è qualche disfunzione, ancora qualche baghettino, perché mi rimanda all'applicazione precedente. Se non sbaglio, anche con la prima beta, quando si andava ad attivare questo nocettino, c'era qualche fastidio, quindi andiamo subito a toglierlo. Opzioni di sviluppatore. Scusate. Allora, ecco qua, nessuno. Cosa, altre cose interessanti, è sicuramente come sono state ridisegnate le pulsantini qua. Qua già erano qui posizionate anche in Android 8, lo spegnimento, riavvio, e qua c'è il tastino di screenshot, screenshot che anch'esso è stato ridimensionato. Qui adesso abbiamo la possibilità di andare a condividere, e come vedete anche qui le notifiche sono state ridisegnate. Possiamo andare direttamente alla gestione delle notifiche. Qua ci viene assegnato quanto tempo è passata dall'ultima notifica di ogni app, e ci permette di abilitarla e disabilitarla. Come vedete, alcune app, quelle di default del telefono, non ci permette neanche di andare a disabilitare. Tornando allo screenshot, abbiamo la possibilità di fare una modifica rapida allo screenshot, andandolo oltre che a ridimensionare, abbiamo anche la possibilità di scriverci sopra, evidenziare, ma ovviamente possiamo tornare indietro e avanti. Possiamo salvarlo, possiamo condividerlo, ovviamente è tutto tondo, ma anche qui vedete che ancora alcune funzioni in questa beta. Ecco, adesso appena è venuto fuori, non è tutto velocissimo, in sé per sé il sistema è reattivo al massimo, però c'è ancora qualche criticità. Qua adesso li lasciamo disattivate la rete di casa, preferisco stare sotto 4G. Come vedete, in realtà, anche queste scritte qui hanno un design differente, la scritta 4G non era così fino a un'ora e mezza fa, due ore fa. E' stata leggermente ridisegnata anche qua l'applicazione, ovviamente Google Now, adesso attraverso le schede sono leggermente differenti da prima. Un'altra cosa che è stata modificata, adesso non si può fare più un pinch in per accedere alle impostazioni della Home, ma si tiene premuto, e qui abbiamo la possibilità di andare alle impostazioni della Home, che sostanzialmente non sono quasi per nulla cambiate, a parte queste due voci qui. Sfondi che non sono stati aggiunti, sono ancora i sfondi che c'erano nativi su questo pixel. Due cose ancora non ho trovato, oltre che alle funzionalità di cui avevano parlato, di dashboard, dell'app timer, queste qui non sono ancora state integrate, non ho trovato come utilizzare il multitasking, sinceramente, perché come vedete non ho nessuna funzione, magari finirò il video e lo troverò come si fa, ma qua si attiva Assistant, se tengo premuto non succede niente. In realtà tenendo premuto, in alcune situazioni mi vedete che sottolinea, mi viene scritto Share, cioè io posso condividere un'immagine, un pezzettino, ma non lo fa con tutti, secondo me questo è un bug, perché prima tenendo premuto su un'immagine, ho ritagliato un pezzettino di un'immagine, facciamo così, facciamo un esempio pratico, vediamo, se lo tengo premuto vedete mi evidenzia questo, Share, andiamo su Telegram, vai, solo una volta, salviamolo con me, così vediamo direttamente che cosa mi dici, guardate mi ha mandato un ingrandimento di quel pezzettino, ma posso farlo solo lì, perché sulla home non posso farlo, ovviamente abbiamo ancora tutti i shortcut, rimane tutto come prima su queste cose qui, sì, ancora qualche criticità, probabilmente bisogna rispettare qualche ora, qualche giorno, che vengano anche aggiornate alcune app, perché non tutto ancora è compatibile, e sarà stata integrata la funzionalità Google Lens, già la fotocamera, guardate adesso facciamo una foto, lì c'è la scritta Surface, adesso qui abbiamo questo bottoncino, lui attiva Google Lens e cerca, Surface, risultati della ricerca, e ti manda direttamente su Google, lo fa con questo, prima ho fatto una foto al mio cane, ma mi ha mandato a trovare i gatti, da questa foto qui, Google Lens, qua c'è il cane, però adesso ho visto il cane, ho visto, ho visto, ho visto, ho benissimo, prima appena ho fatto la foto, ho provato, mi dava che era un gatto, e quindi ancora una piccolezza, seleziona testo, come vedete lo trovo, posso selezionarlo, dovrei poterlo copiare, ricercarlo, ricercarlo, questa funzionalità può essere molto utile, può essere utile nei documenti, può essere utile per alcune, per diverse cose, e quindi questo qui potrebbe essere una killer feature, quello che ho trovato che non è ancora ottimizzato, anzi probabilmente servirà all'aggiornamento, per tutta la questione delle mappe virtuali, di cui hanno parlato, perché io, come vado a selezionare una qualunque cosa, l'applicazione crascia, in realtà è l'unico bug grosso che ho trovato, a parte alcune piccolezze, non riuscire a fare multi windows e altro, l'interfaccia è davvero reattiva, questa nuova grafica mi piace molto, e quindi si sono comunque soddisfatto, di questa seconda preview di Android, di Android P, più stabile di come pensavo, ma in realtà già la prima, era molto stabile, molto stroboscopica, in caso di nuove novità, novità che verranno fuori, ah aspettate cosa mi sono dimenticato, il volume, il volume che adesso potete settare da qui, qua vedete direttamente solamente il volume multimediale, e qua attivate silenzioso vibrazione, ovviamente completamente silenzioso, e poi avete la possibilità di andare direttamente alle impostazioni, eccoci giunti dunque alla fine di questo breve video ragazzi, Android P, questa seconda beta di Android P, porta con sé un restyling grafico abbastanza importante, abbiamo un restyling della navigation bar, con un funzionamento completamente differente, Google Lens, abbiamo tutta l'interfaccia rivista, ridisegnata, comandi differenti, però si limita a questo funzionalmente parlando, tutte le novità che verranno introdotte quest'anno, probabilmente saranno tutte legate a Google Assistant, e all'intelligenza artificiale, le differenze saranno davvero poche di interfaccia, probabilmente rispetto alle versioni precedenti, e si limiteranno a un restyling, ma non a una variazione. in ogni caso, secondo a beta, che in questo retto, retta e mezza che ci ho smanettato, mi è sembrata sempre fluida e reattiva, pochissime criticità, quindi direi che comunque è già un sistema pronto all'uso, non mi sembra una beta praticamente, rapido, fluido, d'altra parte i pixel su questo non si smentiscono ragazzi, quindi per questo breve video è tutto, un saluto da Carlo e dal Pixel 2 XL Panda per Spazio Tech.